ma te sei uscito vestito così? ma io sono entrato così! sentite io qua dentro ci sono stato troppo tempo dai facciamo qualcosa andiamo al cinema poi ma sei sicuro di vederci? ma sì mi hanno operato di cataratta ecco come facciamo andare al cinema con che cosa? andiamo in bicicletta no? dai tiriamo su quella lì per andare al cinema hai rubato una bici in Svizzera ma perché ti sei fermato? ho trovato un bel diversivo ma dove vai? vabbè io vado al cinema da solo lì Grazie a tutti. Grazie a tutti. È finito, il cartone è finito. Ma dove stiamo andando? No, ma io sono troppo stanco, io mi faccio ricoverare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.